Conferenza stampa di presentazione del progetto che porterà a San Pietro in Campo una vera scuola di Morales dedicata ai giovani dai 10 ai 14 anni. Alla presenza del sindaco di Barga e di alcuni consiglieri comunali, il presidente del comitato di San Pietro in Campo, Pietro Pisani, ha descritto l'ambizioso progetto. Cerchiamo di far nascere in San Pietro in Campo un laboratorio, scuola, di pittura sui muri, un laboratorio di Morales destinato ai ragazzi dai 10 ai 14-15 anni sotto la direzione e la collaborazione e la gestione dell'artista Sandra Rigali. Questo dovrebbe partire a febbraio per arrivare a luglio o ad agosto con un Morales sulla facciata del circolo di San Pietro in Campo. Quindi alla fine del corso rimarrà anche un'opera che sarà il frutto del lavoro dei giovani. La direttrice artistica Sandra Rigali ha specificato che non si tratta di un passatempo ma di una vera scuola dove si insegneranno tecniche a coloro che veramente hanno passione e amano questa forma artistica. Lo stesso comitato di San Pietro in Campo ha sempre dimostrato grande interesse per l'arte. Anche durante la revocazione della battitura del grano ha sempre inserito una estemporanea di pittura. Informazioni per partecipare alla scuola di Morales si possono trovare anche sul sito internet del comune di Barga.